Dopo il via libera dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, anche nel Pistoiese, sono riprese le vaccinazioni con il siero di AstraZeneca. In realtà siamo stati preparati anche nei giorni precedenti, perché tutte le nostre sedute sono sempre state in stand-by giorno dopo giorno. Eravamo pronti alla notizia da parte di AIFA della riapertura, quindi oggi ripartiamo. I pazienti che erano prenotati precedentemente hanno ricevuto un messaggio da parte di Regione Toscana che sospende la vaccinazione e poi saranno recuperati, sia quelli di oggi, sia quelli dei giorni precedenti, attraverso un ulteriore messaggio, un'ulteriore prenotazione riservata per queste persone. Tre i punti dove in provincia, dalle 15 come nel resto della Toscana, si sono svolte le somministrazioni a Pescia, a Monsummano e a Pistoia, alla Cattedrale dell'Exbreda. Qui, attendendo all'esterno del grande fabbricato, le persone al freddo hanno atteso il proprio turno per la chiamata. Con loro i giornalisti, qui è stato impedito di entrare per documentare il momento.